la categoria news vince la trasmissione power selection di Radio Globo ritira il premio Andrea Torre e premia la modella e lo divegliante il mitico Andrea Torre ciao e complimenti Andrea tu sei un mito qui a Roma mi salutare il vecchio amico Fabrizio Pacifici amico di grandi cene no che mito sta mito è vicino archeologia quindi forse per l'età sicuramente sì eccoci qua allora tutto a posto notizie musicali più che altro notizie musicali una classifica quotidiana su Radio Globo con con gli ascoltatori o coinvolgo gli ascoltatori a prendere gli intro a fare diciamo tutti i giochini radiofonici carini invece in estate ovviamente ti potremmo trovare un po' l'estate un po' ovunque però diciamo soprattutto con le ultime iniziative di Radio Globo più orientato verso verso Ibiza e quindi verso verso tutto quel mondo lì dove sarà in diretta tutti e tutte le sere sì complimenti complimenti e poi partiremo per un tour sul diciamo la costal Lazio Sud con un mega track che abbiamo messo in piedi quest'anno insomma bellissimo bellissimo l'ho fatto 15 anni fa con questo 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 tour sì ti divertirai tantissimo sono sicuro sono sicuro più che altro non mi stancherò per niente bella gente dove è Casciani eccolo qua grande Luca Elodie domenica noi ci troviamo Sir Morris Martinelli tanti amici poi magari sicuramente ci conosciamo con gli altri però insomma questi sono i due che ho pizzicato al volo assieme un po' Foderaro comunque hai preso le sembianze di Giamorizzo Foderaro tu eh sì dicevi no stavo dicendo Elodie che domenica scusami le spalle perdonami le spalle perdona ad Ardea però diciamo la D'Ardea sarai la matrina di una partita di beneficenza per il bambino Gesù confermi? Assolutamente sì infatti ci troviamo lì per un'occasione veramente importante in occasione anche di poter stare tutti quanti insieme e trascorrere una domenica all'insegna della beneficenza del cuore e della compagnia per tutti quanti noi grazie grazie a te grazie Andrea Torre grazie grazie a voi grazie a tutti